Ciao, Stella! Bella maschera! Non dovrebbe affatto essere bella, dovrebbe invece essere minacciosa! Oh, ti mette molto in risalto gli occhi! Sei pronto a impiegare tutto il tuo tempo e le tue forze a darmi la caccia senza tregua solo per essere respinto ogni singola volta? Ah, suona molto inquietante! Non lo farei mai! Ah, no! E se facessi qualcosa per farmi odiare da te? Non puoi far niente per farti odiare da me! Potrei distruggere la scorta di un anno del tuo gel per capelli! Oh, ehi, piano, piano, piano! Bisognerebbe essere proprio malati mentali per fare... No! Ora mi lascerai essere la tua arci nemica! Non ho altra scelta! Mi hai tolto la cosa a cui tengo di più nella vita! Il gel per capelli! Urrà! Dopo pranzo cercheremo di distruggerci a vicenda! Arrenditi, dottor Luce! Il tuo raggio di terrore è finito! Ah, Titans! Finalmente è giunto il momento di fare i conti con la vostra definitiva distruzione! Scusate la domanda, ma dove sono gli altri? Stanno quasi per arrivare! Per ora dovrai vedertela con noi! Preferirei aspettarli se per voi fa lo stesso! Vedete, quest'arma è stata progettata per distruggere cinque persone in un unico colpo! Lo capite, vero? Parli sul serio? Sarà molto più divertente quando ci sarà tutta la banda al completo! Va bene, aspetteremo! Hmm, quella macchina sembra sul lato sbagliato della carreggiata! Sono gli Aive! Sembrano arrabbiati! Portaci in salvo! Vai, vai, vai! Lavoriamo insieme per venirne fuori! Si parla di gioco? Di squadra! Vuoi vedere qualcosa di magico? Abracadabra! Ci sono addosso! Pilota automatico! Mi serve un'assistente, Bibi! Fratello, non credo di avere la forza di combattere! Buia! Merendine! Diamoci sotto! Non funziona niente! Che facciamo? Continua pure a leggere! Bene! Bene! Va mica fuori! Fuori! Sì! Sì, che bello! Eh già, è stato bello! Sentite, mio padre Trigon... Trigon? Trigon! Divoratore di un milione di anime! Conquistatore di innumerevoli mondi! Ma Trigon è uno degli esseri più potenti dell'intero universo! Davvero è lui tuo padre? Sì, mio padre è un vero demone che si nutre facendo soffrire gli altri! Specialmente me! Ammirato e traico! Signore dell'oscurità! Distruttore delle dimensioni! Schiavizzatore di civiltà! Finiscila con il curriculum, papà! Ora che sei tornato nelle mie grinfie! Larva in me tre diciannove! Avrai esattamente ciò che meriti! No! Per nacchie sul pancino! Che ti dicevo, sta bene? Non può stare bene! Il Killer Mott ha dimenticato di lavare il Silky! E adesso è ora di farti il bagno! Possiamo andare? In una vasca di sostanze chimiche che ti trasformeranno in un messaggero di devastazione totale! Killer Mott, tu non poserai di nuovo la tua mano sul Silky! Sì, perché il suo posto è Constella! Troppo tardi! Lasciami subito! Ricordate che avevo dei sospetti su terra? Bello spiata e ho scoperto che raccoglie informazioni per distruggerci! Io non posso crederci! Sai che significa corvina? Sei completamente impazzita! Non ci eravamo resi conto che tu fossi così in amore per Bibi? Mi dispiace tanto, Terra, ma immagino che la gelosia faccia fare follie! Io non sono gelosa! Mi crederete quando vi mostrerò le prove! Vai, Tantese! Credo che sarai un fantastico Titan! Ora ammetterete che Terra usava Bibi per distruggerci! Wow, avevate detto che era completamente pazza di Bibi, ma non che era... Il mondo dei cattivi mi pagherà una bella somma per questa! Pace, Titans! Terra? Cosa succede? Stai andando via senza nemmeno dirmelo! È così, vero? Scusa, le cose si stanno facendo troppo impegnative tra noi! Bibi, aspetta! Volevo solo dirti... Vai a prenderla, Tigre! Non te ne andare, Terra! Non puoi dirmi che non provi assolutamente niente per me! Vuoi sapere cosa provo? Va bene! Azzarà, Dmitrius, Zikos! Azzarà, Dmitrius, Zikos! I miei saluti, ex amici! Oh no! Robin, la tua malvagia arcinemica è qui! Che cosa facciamo? State indietro! Lei è qui per me! Proteggici, Robin! Nostra speranza! Nessuno può proteggervi da quello che sto per scatenare contro questo mondo! Fammi indovinare! E proverai di nuovo a bere dal cartone del latte! Scommetto che metterà l'orologio del microonde all'ora sbagliata! O magari lascerà aperto il rubinetto del lavandino! Oh no! No! Io ho minato la luna per farla esplodere! Farai esplodere la luna? Ma certo! Latte dal cartone! Hai fatto esplodere la luna! Ma non ti importa niente delle maree? Perché l'hai fatta esplodere? Perché so quanto la luna piacesse a Robin! Ma sei impazzita, Stella? Sì! E anche malvagia! Alimentato dai vostri superpoteri, ecco il progetto Brain! Con Brain e la sua robotica indistruttibile armatura Nexus! Quello è il progetto Brian, bello! No! Brain! B-R-I... Per tutti i kilowatt! Com'è potuto succedere? Oh! Ragazzi! Contromosso! Oh! Oh! Ah! Ah! Sì, 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 sì! Non te ne andare! Non te ne andare! Ora vi polverizzerò tutti! Balliamo, Brian! Sì, sì, sì! Sì, sì, sì! Sì, sì, sì! La vostra resistenza mi impressiona molto! Benvenuti alla nostra piccola festa! Waffle! 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 Dolore! Dolore! Waffle! 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 Vi rendete conto che è il gioco più orribile che sia mai esistito! Waffle! 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 colpito Sticky Joe. Ok, ne tira un altro con gli occhi chiusi. Un attimo, e se lo colpissi? A chi importa? A me. Oh, va bene, ci provo in ogni caso. Ciao, come va? Non ti permetterò di lanciare altri coltelli su Sticky Joe. Mi stai dicendo che cosa fare? Qualcuno deve pur farlo. Lutta! Sì, sì! Ora distruggile, mia bestia malvagia! Benvenuti, ma guardate quanto sono grande! Sai parlare, Sticky? Uh, so parlare! A nientale, Sticky! Adesso! E' assorti, io voglio volare! Non avrebbe potuto andare peggio! Ho speso tutti i miei risparmi per trasformarti in qualcosa di orribile! E ho tenuto questo! Ci rinuncio! Me ne vado a letto! Voglio altre pernacche sul pancino! No! Caro, sei ancora più adorabile, grande così! Grazie! Ti voglio bene! Mi vuoi bene? Ti voglio bene! Oh, mio piccolo Bungorff, lo sapevo! Evviva! 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 I Titans? Chiamateci la Legion of Doom! Non esiste già una Legion of Doom? Sì! E ci siamo presi il loro nome! Ricevuto un'allerta crimine? Siete stati voi! Oh, speriamo di non avervi disturbato! Abbiamo dovuto guidare per tutta la città per occuparci di questo! E non è la cosa peggiore che possa succederti quando sei bella comoda! Bam! Essere interrotto sul più bello dai teppistelli che fanno cose da teppistelli! Che cosa ci fate voi qui? Quello che non avete fatto voi! La conquista del nostro amato mondo! Di sicuro non la passerete lissa! Provate a fermarci! Evviva! Lo detesto! Potevamo essere a casa per le coccole! Fermi! Capito! Capito! Ci dimostrate che le nostre cattiverie hanno effetti negativi sulle vostre vite! Fino ad oggi io non avevo capito quanto fosse brutto! Voi ci avete aperto gli occhi, Titans! Siamo felici che abbiate capito gli errori che avete commesso! Ma non ci comportiamo così per farvi imparare una semplice lezione! Che noia! Lo facciamo perché è divertente! Che disgustoso! I malvagi più grandi! Perché la gente che ci disprezza dedica così tanto tempo ed energia per il guardarci? Bella, sei mai stata su internet? Cose crudali crudali! Perché la gente è così cattiva? Non me lo merito! Beh, le opinioni su internet non sono indicatori precisi di popolarità o di successo! Ad ogni modo potete provare a fermare il programma! Ma non vi lasceranno andare! Non senza lottare! Infastidire! Ehi, sono tutti insieme! Uh, sarà davvero molto bello! Molto meglio di un'altra avventura sull'isola! Va bene, diamo a tutti loro quello che vogliono vedere realmente! Titans, go! Ia! Ah, 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 ah! Ah! ėkė kėė 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 kėėė kėė kėėė kėėė kėė! Ah! Ah! No! 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 Adzerathometrio Zintras! Ah! Ah! Woo! No! Ah! 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 Ah!